Caro Presidente, Signore e Signori, buongiorno a tutti. L'incontro di oggi si svolge in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, o come noi preferiamo dire, delle persone diversamente abili, e conclude una serie di iniziative che il Quirinale ha portato avanti durante l'intero settennato, con la preziosa collaborazione delle associazioni rappresentative. Sono con noi, oltre i presidenti dell'Associazione Italiana Persone Down e dell'Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità, alcuni dei ragazzi che abbiamo avuto modo di conoscere e apprezzare durante i vari stage che hanno fatto presso le cucine, nei giardini, e da quest'anno anche presso la biblioteca. Altri stage ci proponiamo di avviare nel prossimo anno, di formazione audiovisiva e di informatica per non vedenti. In aggiunta a questi veri e propri corsi di formazione, la Presidenza della Repubblica ha organizzato molte altre iniziative per manifestare la propria vicinanza alle persone diversamente abili. Come molti di voi ricorderanno, abbiamo ridotto le barriere architettoniche, offerto particolari facilitazioni per l'accesso alle visite e ai concerti, reso il nostro sito più agevolmente consultabile e organizzato infine diversi eventi, ricevendo molte associazioni e gruppi e allestendo anche esposizioni di opere di persone diversamente abili. Prima della consegna da parte del Presidente della Repubblica di onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica a cittadini che si sono distinti per il contributo che hanno dato al superamento delle disabilità e ai processi di integrazione, esprimendo straordinarie capacità e talenti delle medaglie ai Presidenti delle associazioni come riconoscimento della preziosa attività da loro svolta, nonché alla comunità di Capodarco, pioniera dell'azione di sostegno alle disabilità e al centro protesi INAI di Vigorso di Budrio, all'avanguardia nel campo delle protesi e dei presidi ortopetici, i responsabili delle strutture coinvolte negli stage presenteranno ora al Presidente alcuni dei ragazzi che ne sono stati protagonisti e illustreranno quello che essi hanno saputo fare.